buon pomeriggio da daniele burigana della giovane italia e benvenuti al centro sportivo green club di prato lungo questa è lazio roma diciassettesima giornata del campionato nazionale under 16 girone d i padroni di casa sono in seconda posizione vengono da otto risultati utili consecutivi e l'ultima giornata hanno vinto 2 a 1 in casa del lecce gli ospiti si trovano in cima alla classifica a più sette dalla lazio vengono da sei vittorie consecutive con zero gol subiti e nell'ultima giornata hanno travolto la salernitana vincendo 6 a 0 passiamo ora alle formazioni i ragazzi guidati da mister alboni scendono in campo nel sistema di gioco 4 3 1 2 4 volti nuovi rispetto all'ultima giornata tra i pali masi per mazzù in difesa per naselci per scuto in avanti de martino e carbone al posto di polito e moci rivoluzione per la rosa allenata da mister falsini che cambia sette uomini rispetto all'ultima giornata in porta de marsi per civello in difesa tesauro nardin e cama per marchetti zigni e valenza a centrocampo dinunzio e scacchi per panico e cinti e in avanti morucci per ferrara la prima occasione della gara è per la roma cambio di gioco all'indirizzo di coletta sull'out di destra il numero 7 si sposta il pallone sul destro e calcia sfera che sfila alla destra della porta difesa da masi ancora roma in avanti scacchi serve coletta al limite dell'area di rigore il numero 7 sterza sul sinistro si sposta il pallone calcia splendida la rete del centrocampista giallorosso che porta in vantaggio i suoi al diciannovesimo del primo tempo 1 a 0 roma la rete la firma federico coletta ancora coletta scatenato sulla destra supera francioli mette dentro nardi in calcia botta sicura masi salva il risultato lazio che si salva al ventiquattresimo del primo tempo lazio che inizia la seconda frazione di gara colpiglio giusto chiucchiuni in progressione centrale arriva al limite calcia de marsi para e arduino allontana al quarto minuto di gioco roma che recupera palla in zona offensiva con morucci il numero 9 entra in area di rigore scarica su coletta uno sguardo dentro l'area serve belmonte controllo col destro tiro con il sinistro conclusione di poco a lato e roma vicina al raddoppio calcio d'angolo battuto da destra per la roma al centro dell'area di nunzio stacca solissimo salvataggio vicino alla linea di porta di un difensore della lazio si salvano ancora i bianco celesti al diciottesimo cam avanza indisturbato sulla tre quarti e scarica centralmente per panico il 18 alza lo sguardo e alza un lob all'indirizzo di tesauro male pollito nell'intervento tesauro controlla con il destro calcia sul primo palo col sinistro e fa 2 a 0 roma al ventiduesimo del secondo tempo lazio che recupera palla in zona offensiva nebuloso di prima intenzione verso formisano il numero 16 calcia con il destro attentissimo de marsi nega il gol del 2 a 1 alla lazio coletta tesauro de caro prova a chiudere l'1-2 con il terzino della roma respinge la difesa della lazio rientra in possesso coletta che converge centralmente calcia con il sinistro traiettoria che finisce sotto la traversa e poi in rete doppietta personale per coletta e 3 a 0 roma al trentunesimo recupera palla la roma nella propria metà campo con cinti il numero 13 avanza fino alla metà campo alza lo sguardo e cambia gioco all'indirizzo di de caro per nasce il cinol ci arriva il 14 controlla e calcia di incrociare con il destro chiude il match la roma al trentaseiesimo 4 a 0 la firma di lorenzo de caro 42 sul cronometro pallone che termina fuori e arriva anche il triplice fischio del direttore di gara lazio roma termina così sul punteggio di 4 a 0 per i giallorossi roma che si conferma sempre più capolista con 43 punti sette vittorie nelle ultime sette gare con 33 gol fatti e 0 subiti lazio che scivola al terzo posto in classifica con 33 punti e si vede raggiungere dal frosinone che però è avanti per gli scontri diretti